Abbiamo assistito alla manifestazione dei commercianti nell'area del benessere a Reggio Calabria, una manifestazione molto partecipata e la protesta si è fatta sentire. Il sindaco di Reggio Calabria, dopo la manifestazione, ha deciso di incontrare ieri il prefetto di Reggio, Massimo Mariani, per rappresentare le difficoltà del comparto ed individuare possibili soluzioni alla vicenda. L'obiettivo ovviamente è quello di individuare delle soluzioni sia con le autorità regionali che con quelle nazionali. Sì, ho espresso a Sua Eccellenza il prefetto Mariani la mia forte preoccupazione per quella che è la situazione relativa alle chiusure dei centri estetici, dei parrucchieri, dei barbieri, anche la prolungata chiusura delle palestre. Ho espresso la mia preoccupazione anche rispetto a uno stato di insofferenza sempre maggiore e sempre crescente che condivido da parte dei nostri imprenditori, da parte dei nostri artigiani, perché è oggettivamente incomprensibile come tutte le attività siano riprese e invece altre attività che per loro natura, già a prescindere dal Covid, devono rispettare determinati parametri di sicurezza e di tutela della salute di chi frequenta questi posti ma che sono attività che non possono essere fatte ad esempio online o a distanza, debbano pagare più degli altri le conseguenze delle decisioni prese dal governo. Serve un intervento politico, il prefetto è pienamente consapevole della situazione anche perché ieri i commercianti sono stati ricevuti da sua eccellenza, so che c'è un intervento anche da parte delle associazioni di categoria. Noi come ANCI, come Associazione Nazionale dei Sindaci dei Comuni Italiani e come Città Metropolitane faremo la nostra parte, spingeremo a nostra volta affinché non siano ormai più solo gli imprenditori, gli artigiani, i nostri concittadini ma anche tutti gli altri imprenditori di questo settore a dover pagare le conseguenze di queste chiusure. Naturalmente la vicinanza, il sostegno e la solidarietà non basta, la politica può e deve decidere di risolvere questa situazione che è oggettivamente incomprensibile a tutti.